Ed eccoci con l'assessore Moro per vedere quali sono stati i temi di questo incontro che riguarda proprio la continuità territoriale, l'argomento del giorno. Ma senz'altro oggi il tema dell'insularità legato al tema della continuità territoriale ci dà l'occasione per affermare che il riconoscimento costituzionale all'insularità rappresenta uno straordinario strumento per proseguire nella battaglia in Europa per affermare appunto il diritto dei sardi alla continuità territoriale. L'insularità è uno dei pilastri su cui poggiare la nostra ferma volontà politica di disegnare un nuovo modello del trasporto aereo, un modello sardo che nasca dalla partecipazione di tutti e che tenga conto delle esperienze che in questi anni si sono affermate in Europa e delle migliori soluzioni che in questi anni hanno trovato applicazione in Sardegna. Questo è il primo di una serie di convegni che abbiamo in mente di organizzare nella Winter per dirla in termini aeroportuali, in termini di traffico aereo nella Winter 2023. Questo primo è dedicato alla creazione del sistema aeroportuale della Sardegna, il prossimo sarà dedicato al tema della continuità territoriale. E stiamo in questo modo, quasi sottraendoci da un dibattito diretto noi di ConfCommercio, stiamo dando spazio ai massimi esperti a livello nazionale sui temi che trattiamo. Lei è d'accordo quindi con la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari? Ma io veramente non è che sono d'accordo con la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari, sono d'accordo con la privatizzazione degli aeroporti. In definitiva alla privatizzazione mancano sostanzialmente gli aeroporti siciliani, mancano gli aeroporti sardi, tendenzialmente la Puglia. Per il resto c'è stato un percorso di privatizzazione che ha garantito lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano. E quindi credo che la risposta sia sì alla privatizzazione, una privatizzazione nell'ambito anche di costituzioni di reti, 13 reti noi decliniamo, nell'ambito del PNA che effettivamente possono garantire al nostro Paese una crescita importante nell'ambito dello sviluppo del trasporto aereo che nei prossimi anni sarà sicuramente costante e importante.